Ciao a tutti, sono Sara Casasola del Team Servetto e vi aspetto sulle strade del Giro d'Italia, che tra l'altro quest'anno passerà anche per la mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Spero ci sia molto pubblico e spero che sia una bella esperienza sia per noi che per tutti quelli che vi assisteranno. Ciao!